L'astronave brucia, schiantandosi, solo i più veloci si salvano. Questo viaggio è durato tantissimo, doveva finire prima o poi. E guardandoci in giro abbiamo capito che abbiamo fatto bene a partire. Dai nostri figli nascerà un popolo che migliorerà i nostri pensieri, i nostri pensieri, i pensieri. Con il nostro aiuto i pensieri, l'importante era arrivare senza perdersi. Arrivare 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 Grazie a tutti Grazie a tutti